eccoci di nuovo siamo di nuovo alla festa d'europa e twinning erasmus plus europa organizzata in questa giornata 9 9 maggio festa dell'europa e ovviamente e twinning day in questa in questo spazio ospitiamo tre colleghe paola arduini laura maffei monica kiss due di loro sono due colleghe ambasciatrici italiane paola ambasciatrice per il lazio ambasciatrice twinning naturalmente laura maffei ambasciatrice per la toscana e monica kiss invece una gradita ospite ungherese ed è ambasciatrice e twinning per l'ungheria io partirei da paola arduini chiedendole proprio di raccontarci come nella sua nel suo percorso in particolare nel percorso attuale che sta facendo da qualche tempo è riuscita a portare proprio è il caso di dire l'europa nella sua scuola raccontaci come che cosa che cosa è successo allora buonasera a tutti io sono di roma è nata a roma insegnato per 30 30 31 anni nelle scuole primarie di tutte le periferie romane anche lì ho fatto un lavoro molto che a me insomma è sembrato molto importante di europeizzazione di scuole ehm spesso con un forte di di queste scuole ad alto rischio sociale ed economico e nel 2016 dopo una pausa di un'avventura presso il miur sono ehm mi hanno chiamato a insegnare nella scuola all'estero una delle otto scuole italiane all'estero che abbiamo e io sono a madrid nella scuola statale italiana di madrid sempre come insegnante di scuola primaria ora arrivata mh catapultata praticamente dopo una selezione avvenuta anni prima di cui non ricordavo più nulla e quindi chiamata a insegnare in un contesto del tutto diverso in una scuola eh che pensavo molto più italiana e che invece effettivamente una scuola è frequentata da molti spagnoli ma la cosa che mi ha stupito di una scuola che è per vocazione istituzionalmente eh al crocevia tra due culture e due paesi di non trovare traccia di progettazione europea né di nessun contatto a parte alcune cose molto istituzionali fatte tramite l'ambasciata e quindi ho cominciato a dire beh bisogna cominciare a a rimanere connessi eh e abbiamo cominciato con dei progetti e twinning io insegnavo in prima elementare quindi abbiamo cominciato a fare i progetti twinning in prima elementare si sono unite poi varie altre classi anche la scuola dell'infanzia abbiamo cominciato a iscrivere docenti abbiamo cominciato ad allargare progetti eh due progetti hanno avuto il il mi sta venendo il seglio perché mi viene in spagnolo come ce l'hanno spagnolo insomma il il certificato di qualità europeo abbiamo svolto diverse attività di formazione anche in collaborazione con i colleghi dell'agenzia spagnola perché poi c'è tutto questo intreccio insomma abbastanza divertente perché i twinning in europa eh è vero che noi portiamo eh l'Europa nelle scuole ma i twinning è quello che ci fa sentire veramente una famiglia ed è insomma una cosa che è sempre molto positiva no? Uno si trova all'estero va in giro con la borsetta i twinning e capita che ti fermi la collega spagnola e dice ma tu eres dei twinning e si comincia a chiacchierare insomma è la grande famiglia che si ritrova e i colleghi dell'agenzia spagnola sono anche molto 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 attivi molto carini molto coinvolgenti e quindi questo progetto ci ha portato a diventare anche scuole qui e twinning dall'anno scorso e abbiamo inserito i twinning nel nel piano dell'offerta formativa eh siamo riusciti tramite proprio i progetti twinning ad avere eh a organizzare poi ad ottenere un progetto Erasmus K219 quindi una collaborazione tra scuole che è proprio uno di quei di quelli che insomma anche Sara Pagliai dice che insomma è il suo ideale il il progetto tra scuole che diventa un e-twinning che diventa come Enios cioè le scuole che lavorano online per un lungo periodo e che poi fanno cominciano a a presentare un progetto che viene approvato e si organizzano anche le mobilità il tutto tenuto sempre insieme dai progetti twinning e a parte questo di Erasmus noi abbiamo eh altri bei progetti tra cui quello a cui partecipano le colleghe Monica e Laura che è un progetto di lettura poi ve ne parleranno meglio loro che sta coinvolgendo tantissimo perché abbiamo tutti gli alunni che sono dentro il progetto e quindi c'è questo enorme eh quantità di scambio tra i ragazzini che per me insegnante di di scuola primaria ma di di area linguistica quindi di italiano che insegno con bambini in cui solo una piccolissima percentuale sono nati in Italia la stragrande maggioranza sono nati a Madrid e e solo una minoranza è figlia di coppie eh italiane la maggior parte sono figli di genitori spagnoli o di genitori spagnoli o di coppie miste e che tra parentesi sono eh a proposito di Europa sono eh tantissime di queste coppie miste forse l'ottanta per cento sono Erasmus cioè gente che si è conosciuta in Erasmus perché ovviamente sono giovani ma della primaria e quindi quando abbiamo fatto l'Erasmus Day a ottobre abbiamo chiamato questi genitori a raccontarci come si sono conosciuti tantissimi si sono conosciuti durante il loro periodo Erasmus chi in Italia chi in Spagna chi in un altro paese e poi si sono sposati e quindi sono Erasmus e quindi abbiamo anche tutto questo grande sul nostro progetto Erasmus e sui progetti europei abbiamo un sostegno enorme dei genitori da uno che è il professore dell'Università Complutense che è il responsabile dell'Erasmus per l'Università Complutense che appena dico ho in mente di fare qualcosa mi dice quello che puoi quello che vuoi che cosa ti serve perché eh loro tutti quanti sono sono Erasmus dalla nascita cioè sono proprio qualcuno concepito in Erasmus quindi immaginate che che situazione proprio l'Europa concreta e quindi continuiamo ad andare avanti questi due mesi sono come in tutto il resto del mondo una situazione difficilissima che stiamo cercando di gestire anche attraverso la rete delle nostre progettazioni europee cercando di tenerci un po' tutti insieme quindi questo questo devo dire ringraziarti no questo questo fatto della rete del filo che ci unisce è un elemento che è ritornato non non a caso ma è che è ritornato in tutti gli gli interventi che sono stati fatti da stamattina eh a partire da quello di Sara Pagliai proseguendo per quello di 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 Luisella e di Marina Marino Luisella Mori e Marina Marino e eh attraverso quello di Simone perché effettivamente è è molto vero no cioè ci 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 teniamo insieme e ci siamo tenuti insieme eh in più intensamente se vogliamo di come si faceva prima però insomma poi questa modalità è una modalità che come dicevi te è sempre stata no ti incontri mi è piaciuta molto l'immagine della borsetta perché è verissimo no la borsetta che cambia colore tutti gli anni e dal dal colore della borsetta si può risalire a che evento è stata nata quella borsetta per cui ah questo era insomma è una cosa che sembra un linguaggio di di carbonari ma in realtà credo che possa essere un po' è così ma anche no nel senso che è una cosa che è molto carina e condivisibile anche no perché è un gruppo di persone che si incontrano poi nel tempo e si conoscono nel tempo e io passerei la parola a Laura che ci parla appunto eh del alla quale vorrei proprio la stessa domanda no come entra come fai a entrare l'Europa nella nelle tue classi eh a scuola bene allora io intanto eh insegno in una secondaria di primo grado eh ma il mio è un istituto comprensivo ma anche abbastanza di nascita recente quindi ancora con l'entusiasmo di cominciare a lavorare insieme a scoprirci tra eh ordini di scuola diversi e mh prima di tutto va detto che cioè mi riconosco è stato molto bello nel corso della giornata mi riconosco eh in quello che che è stato detto dalle persone che hanno parlato prima di me perché è un un percorso comune che abbiamo fatto probabilmente anche di di crescita all'interno eh delle variazioni eh della della commissione europea via 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 eh ho cercato sempre di portare eh l'Europa a scuola eh francamente probabilmente mi riconosco più di tutto nel percorso che ha di che diceva prima Simone Bionda ehm cioè un da come studentessa e poi come insegnante di aver seguito creduto in questo valore della scuola ecco mh stamattina della scuola e della scuola in Europa stamattina eh Sara Pagliai diceva che sono settant'anni dalla dichiarazione Schumann e questo documento è un documento bellissimo mh che spesso ho preso anche in esame insieme ai miei ragazzi e che porta avanti dei valori e questi valori sono la pace, la solidarietà, la comunicazione, la collaborazione e cioè mh se ci si riflette è il momento in cui è nata la comunità economica del eh del carbone e dell'acciaio no? Il mettere insieme le risorse cioè il documento che ha dato il via al non lottiamo per le risorse ma mettiamole insieme e fra le tante frasi di questo documento che secondo me sono di ispirazione anche oggi eh ce n'è una che vi riporto a parole mie perché non non mi sono insegnata le parole precise ma che dice che l'Europa non sarà fatta tutta insieme eccedenti lo dicevano settant'anni fa eh non si può fare in una volta sola non sarà costruita tutta con un piano solo ma attraverso delle azioni concrete che realizzino una solidarietà di fatto e e quando meglio di oggi quando meglio che nella quarantena che meglio nella pandemia si possono ritirare fuori questi valori e quando prima di me Simone diceva eh che l'Europa non è un un'idea politica e spesso ce ne dimentichiamo non è un'entità politica figuriamoci un'entità geografica ma è un'entità culturale e per questo appartiene alla scuola e quindi va portata nella scuola negli anni ce l'abbiamo portata nella mia scuola che ha una tradizione come si poteva attraverso le variazioni eh finanziate attraverso di twinning e abbiamo fatto un certo tipo di percorso eh chiaramente quello che vuol dire portare l'Europa a scuola vuol dire portare collaborazione e solidarietà e e mi pare che oggi in Europa eh non è che si brilli per solidarietà ci sono più che altro egoismi nazionali eh sì eh vedo i commenti e effettivamente anche a me è un discorso che dai brividi ogni anno che ci che si celebra ma quest'anno di più eh perché ehm la solidarietà manca e eh anzi emerge tutto il contrario no? Ma nelle scuole questo no e quindi ora cosa succede? Ora si viene un pochino al tecnico della scuola perché la dad eh la didattica a distanza è eh odiata dai tre quarti dei genitori purtroppo però chi come noi mh ha una storia di di collaborazione europea che è avvenuta anche online ha avuto il vantaggio di partire con la conoscenza degli strumenti quindi lo strumento informatico noi e i nostri alunni non solo ma l'utilizzo dello strumento informatico per comunicare per condividere per collaborare cioè non basta la conoscenza dello strumento informatico bisogna anche averlo utilizzato in una certa maniera nel corso degli anni e noi lo sapevamo fare cioè quando prima di me Paola diceva eh chiusa la scuola i ragazzi immediatamente si sono ritrovati nei twining la stessa cosa spontaneamente è successa da noi quindi eh il portare questa entità culturale dentro eh è voluto dire che cosa proseguire i progetti che avevamo un progetto è questo che abbiamo con Paola e con Monica era un progetto legato alla lettura quindi in genere si fanno dei progetti curricolari eh che riguardano appunto i vari ordini di scuola noi primaria secondaria di primo grado Monica in una primaria Paola in una primaria i nostri alunni lavoravano insieme era basato quasi tutto sull'incontro in presenza e eh quindi utilizzavamo degli strumenti per far incontrare ragazzi e come dicevano prima anche qui mi rifaccio a Marina mi rifaccio a Marina Marino mi rifaccio a Luizella Mori chiaramente questo è un valore didattico non è solo educazione alla convivenza civile è chiaro che eh se parlo una lingua una cosa è eh recitare un dialogo con l'insegnante una cosa è parlare veramente con uno che quella lingua la parla doverla usare davvero per comunicare eh nello stesso modo se studia un argomento una una cosa è raccontarlo come una poesia all'insegnante e una cosa è presentarlo davanti a un pubblico di pari insomma per esempio in questo caso noi leggevamo dei libri e poi c'erano degli degli incontri online dove questi libri venivano raccontati condivisi si facevano delle giornate letterarie eh e quindi abbiamo continuato in questo soltanto che lo strumento che prima utilizzavamo per comunicare con i partner stranieri è servito anche per comunicare tra noi e nel caso dei libri è stato estremamente interessante questo progetto di lettura perché per esempio abbiamo cominciato a fare degli incontri eh intanto con i ragazzi di Paola e si stanno organizzando anche con quelli di Monica che però sono più piccoli incontri dove si vede come sono cambiate le abitudini di lettura durante la quarantena e quindi è abbastanza interessante si si consigliano i libri i ragazzi si raccontano che i libri si sono letti intanto chiacchierano e portare l'Europa a scuola vuol dire portarci gli europeini a scuola cioè in questo momento dove tutti soffriamo più o meno di claustrofobia perché siamo segregati in casa o segregati davanti al computer è portare dentro gente nuova vuol dire motivazione perché eh dare ai ragazzi gli strumenti non vuol dire che loro vogliano venire veramente a lezione e purtroppo la didattica a distanza chi la odia è perché spesso ha avuto ragione di odiarla perché ha vissuto la didattica a distanza come ti mando i compiti te me li rimandi io te li rimando corretti e in questo modo si si trasforma in una cosa tipo veramente precettore dell'ottocento e noi vogliamo un dialogo e all'interno del dialogo ci stanno tanti bambini che che creano delle cose che che riescono a volte andare oltre le aspettative insomma ecco nell'ultimo incontro che è stato l'incontro con i ragazzi di paola abbiamo cominciato raccontandoci esperienze di quarantena eh sia uscite la prima uscita perché è cominciata la fase delle uscite sia in Spagna sia in Italia eh sia le letture in quarantena e partendo da questo discorso siamo finiti a eh perché non non ci mettiamo a scrivere delle poesie insieme sulla quarantena e tutti i ragazzi che dicevano sì sì bello scriviamo poesie ecco chiaramente eh glielo avessi proposto io ma mandatemi una poesia scritta sulla quarantena eh sarebbe stato un compito veramente eh che loro avrebbero vissuto come un'imposizione così è venuto in mente a loro si sono organizzati tra loro e sono andati via tutti esaltati e la prossima volta ci vediamo per leggere queste poesie eh e il fatto che eh per esempio tentino anche di rincontrarsi fuori dai canali istituzionali che può essere il registro oppure in questo caso noi abbiamo Google Meet di di istituto cioè per me è un successo chiaramente non vanno incoraggiati a trovarsi su altri social però si capisce bene che il fatto che eh loro cerchino di incontrarsi oltre la scuola è un allargare il tempo scuola e è un allargare l'Europa cioè eh riconoscono che sono persone reali riconoscono che hanno qualcosa da imparare e qualcosa da condividere e questo è il primo passo e l'ultima cosa vedono degli europei veri perché viviamo purtroppo in un periodo di fake news a tutti i momenti eh in Spagna si fa questo in Germania si fa quest'altro in Ungheria si fa quell'altro perché me l'ha detto lo zio del cugino del negoziante noi li vediamo dal vero e quindi per esempio una delle prime domande dei ragazzi è cosa fate cosa potete fare come vivete e insomma l'Europa Scuola si basa sulla conoscenza sulla conoscenza reciproca e questo è quello che voglio portare a scuola all'interno del curriculum certo ma ampliando il curriculum e come ho detto fin da quando ho iniziato i twinning la scuola non è un problema di fare di più ma di fare meglio e meglio vuol dire allargare e questa è la mia visione e questo è tutto. Grazie mille Laura vogliamo Paola e scusami Monica vuoi raccontare tu la tua esperienza all'interno di questo progetto di lettura? Grazie sì molto volentieri mi è venuta un'immagine mentre parlavano Paola e anche Laura che veramente i twinning ci aiuta a dare una finestra al mondo ci collega davvero ed è così perché io ho iniziato a conoscere i twinning insieme a Laura ormai più o meno 15 anni fa così abbiamo un bel viaggio insieme delle avventure europee e con molti molti ragazzi molti alunni che sono già cresciuti anche con i twinning con questo tipo di collaborazione e anche amicizia io sono una maestra l'anno scorso ho iniziato con una classe nuova io mi piace tanto iniziare con i twinning perché penso che sia molto utile anche a poter costruire una comunità di classe insieme perché abbiamo esperienze se facciamo tutte queste esperienze allora possiamo essere meglio anche insieme però racconto questa cosa anche perché già l'anno scorso tra i miei bambini e i bambini italiani abbiamo già costruito una vera collaborazione è una storia molto carina secondo me che i miei bambini tutti i miei bambini hanno un twin italiano una twin italiana che tutti i twin sono diventati piccoli mentor dei miei alunni perché certo quando i miei bambini piccini sono arrivati a scuola non potevano non sapevano né leggere né scrivere ma abbiamo provato a trovare un tipo di mezzo di comunicazione e la lingua io insegno anche l'italiano ma un grande aiuto da parte dei nostri amici italiani che sono diventati piccoli mentor piccoli insegnanti di lingua e che loro ci aiutavano ad imparare l'italiano delle espressioni molto utili allora pian piano è veramente partita una cresciuta una vera comunicazione tra i nostri amici italiani ungheresi tra i bambini e anche tra noi insegnanti è così dopo questa prima frase a settembre abbiamo iniziato questo nuovo progetto insieme insieme a paola laura insieme a altre colleghe potrei dire i nomi tipo anche per esempio l'oradana vecchie altre maestre che ci aiutano tanto tanto in questo progetto e certo anche altri paesi europei altri partner europei per fortuna anche se adesso siamo a casa il progetto lo possiamo continuare perché i libri stanno con noi anche a casa così è possibile andare avanti con la lettura quando noi abbiamo sentito prima di questa fase molto difficile abbiamo avuto anche più incontri online i bambini hanno scritto delle lettere hanno cambiato messaggi cioè abbiamo sempre avuto un contatto molto vivo insieme e adesso in questa fase non troppo naturale che viviamo adesso anche ora è possibile andare avanti per fortuna quando abbiamo sentito della situazione molto molto triste che vivete in italia allora noi abbiamo deciso di poter stare insieme di poter aiutare almeno un pochino a portare a me almeno un sorriso ai nostri amici italiani ai bambini italiani e come io sono una maestra io posso aiutare con una fiaba perché noi viviamo con i bambini nel mondo nel mondo delle fiabe anche alla scuola allora io ho scritto una fiaba il titolo è il principio annoiato e ho mandato ai miei bambini i bambini ungheresi quando hanno sentito che possono stare insieme a questo modo con i bambini italiani hanno subito deciso di poter di voler aiutare e disegnare loro hanno fatto delle piccole illustrazioni alla base per fortuna abbiamo anche un altro aiuto perché io pensavo sì ma una tradizione un po più ufficiale sarebbe più adatto che sarebbe più più facile forse e per fortuna noi abbiamo un'università qui nella mia città assegher e all'università una professoressa di nome ester sherman ci ha aiutato con i suoi alunni gli alunni con la professoressa hanno tradotto la fiaba in italiano e anche in inglese con la traduzione con i disegnini dei bambini o per come come ne parlavamo con laura abbiamo provato a dare un'esperienza più viva così ho letto io la favola ho fatto vedere con una con un video disegnini dei bambini e abbiamo potuto utilizzare il testo che ci hanno tradotto all'università e dopo questo video abbiamo messo su screen space così i nostri amici italiani hanno potuto guardare il video e avere delle immagini e che noi ci abbiamo scritto siamo con voi e che è vero perché perché siamo davvero insieme almeno nei pensieri e nel cuore e dopo e dopo per fortuna anche i bambini italiani hanno avevano voglia di disegnare hanno i disegnini e così con l'aiuto delle loro maestre certo abbiamo una raccolta dei loro disegnini ormai siamo in una in un'altra fase perché stiamo mettendo insieme un giornalino online accanto alla al testo ungherese ci sono i disegnini dei bambini italiani e viceversa ok quando arriviamo al testo alla versione inglese allora ci sono i disegnini dei bambini italiani e ungheresi e la scoperta è che veramente mi piace tantissimo una scopa ho scoperto che i bambini italiani ungheresi questi twin hanno disegnato in un modo molto simile hanno usato veramente anche gli stessi colori per esempio che un simbolo dell'uccello hanno disegnato per esempio in blu anche un bambino ungherese anche il twin latvin italiano italiana ha usato lo stesso colore per per disegnare l'uccellino un personaggio principale della fiava così questi 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 bambini sognano in un modo molto simile e forse perché sono twin e forse forse perché siamo insieme in questo modo e io ne sono molto grata che il twin ci aiuta anche in questa cosa ci aiuta a sognare insieme anche in un periodo così difficile portiamo avanti così questo nostro progetto di lettura è la anche l'amicizia che ormai è diventato l'amicizia tra più generazioni beh ma sicuramente grazie mille no monica perché mentre vi ascoltavo riflettevo sul fatto che davvero di i progetti e twinning offrono la possibilità appunto di come avete sottolineato più volte di mettere in comunicazione ma anche in particolare questo vostro progetto di lettura secondo me va a toccare delle corde particolari penso sia vostre che dei ragazzi no cioè è una dimensione diversa di eh leggere riflettere su alcune cose far emergere magari anche delle delle sfere emotive dei ragazzi che in questo momento stanno dei bambini dei ragazzi che stanno vivendo una realtà che forse non non siamo riusciti noi adulti a descrivere pienamente o che loro non sono riusciti a accogliere in modo eh diciamo appieno che cosa succederà dopo cosa sta succedendo non potremo più uscire non potremo più andare in treno me l'altro giorno un nipote mi ha detto anzi mia nipote mi ha detto ma zia noi non potremo più andare in treno e ha detto no ma piano piano ci andremo in treno però per dire la la loro la loro prospettiva è una prospettiva davvero eh ancora più in difficoltà no e e secondo me questo lavoro che state facendo ha il grande valore di essere anche una cura per per le loro anime per 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 le loro solitudine per la loro stanchezza ma anche per le per le vostre probabilmente per le nostre di docenti no perché poi si eh si ci si impegna si 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 tessono questi fili che poi vanno avanti diventano sempre più saldi nel tempo quindi questi progetti hanno veramente anche una fortissima valenza umana di di cura delle delle emozioni e questo è bellissimo secondo me e quindi complimenti a maggior ragione insomma perché è un'idea veramente veramente bella e io vorrei perché poi ehm non non so se tutti quelli che ci ascoltano siano poi sì presumibilmente conoscono tutti e twinning perché sono eh sono collegati a un canale che che insomma è una una pagina eh e twinning toscana però mi piacerebbe che voi deste anche qualche qualche tip per quello che riguarda proprio eh siete persone che avete un'esperienza grande in e twinning no abbiamo detto un'esperienza grande in progettazione europea una progettazione un'esperienza eh forte anche sul digitale Paola ci raccontava eh che ha lavorato presso il miur ha lavorato eh nel luogo dove si faceva il digitale quando si pensava che il digitale fosse molto importante a un certo punto per fortuna qualcuno adesso l'hashtag ve l'avevamo detto esatto esatto perché insomma poi succede che a un certo punto prima quelli che fa usano il digitale sono tutti un po' malati di mente o comunque un po' dei mani dei maniachetti che non c'hanno altro da fare e poi a un certo punto dice ah però cavolo infatti è molto questo esatto è molto questo adesso perché voglio dire io ho lavorato al piano nazionale scuola digitale e rileggendolo voglio dire c'è tutto cioè il digitale che non è il fine il digitale che è il mezzo di comunicazione fondamentalmente c'è lo strumento con cui si costruisce eh la comunicazione a distanza è lo strumento con cui soprattutto si costruisce una scuola nuova e in questo eh voglio dire c'è un gruppo di docenti molti e twinners ma anche al di fuori dei twinning che bisogna essere onesti che da anni continuano a dire guardate che noi non vogliamo il digitale io vengo da nella mia scuola di Roma c'era stato tutto una grossissima polemica perché dovevano togliere il wifi perché il wifi faceva male ai bambini e io me lo sono difeso con con sì perché facendo intervenire i professoroni a venirci a dire quanto faceva male lo schermo ai bambini eh di quelli che adesso pontificano su invece la di come si fa la didattica a distanza però a quell'epoca ci dicevano no nella scuola non bisogna usare gli schermi e io ero quella che faceva i progetti europei e quindi dicevo non me lo potete togliere perché io la mattina ho la limma attaccata e ho in collegamento un giorno Atene un giorno era un progetto twinning ed Erasmus e Comenius allora era insieme un giorno Parigi mi ricordo il barista che si affacciava in classe così sbucava e faceva e oggi con chi state e quello dall'altra parte che diceva eh eh buenos dias e questo è Madrid era era così era la nostra classe stavamo sempre connessi con tutto il mondo con tutta Europa perché era quello cioè lo strumento serviva a questo nel piano nazionale scuola digitale c'era tutta la descrizione di che cosa significava il digitale che non era lo strumento che non era il fine non era il wifi ma era il modo con cui si fa una scuola diversa che non è la lezione frontale che è la scuola per progetti e che noi facciamo io mi ricordo dei bellissimi affollatissimi eh Laura era con con noi eh learning eventi fatte nella piattaforma e twinning a spiegare come e twinning e il piano nazionale scuola digitale fossero connaturati facevamo eventi live con 500 persone a partecipare ma perché noi eravamo già così ora per fortuna eh si è visto che quelle che era l'avanguardia rivoluzionaria è diventata la massa che spinge eh che adesso serve perché adesso poi nelle nostre scuole ti arriva il collega che ti bussa eh cioè ti manda il messaggio whatsapp perché poi è quello e ti dice ma tu che lo sai fare ma tu che lo sai fare mi spieghi come si fa ma tu che lo ma tu lo io mi ricordo una collega mi diceva io mi ricordo che tu mi dicevi che quando facevamo le videoconferenze non bisognava stare a parlare eh gli dicevo sì non puoi rifare la videoconferenza con ragazzini elementari e parlare per mezz'ora e spiegare eh la grammatica perché non si fa così ma io mi ricordo che tu mi avevi fatto vedere la lavagna condivisa dove si scriveva insieme eh eccotela qua la lavagna condivisa ma io la uso noi la usavamo allora dai pazzi nerd come mi dicevi tu Simona quelli che appunto che vede che arrivano i colleghi succederà anche a voi no che arriva la il collega che dice non mi funziona il telefonino tu che sei brava fammelo funzionare oppure quello che arriva e dice scusa tu che c'hai il cavo i cavi sono in classe mia perché io sono e non faccio l'animatore digitale non l'ho ovviamente non l'ho mai fatto ehm però da quelli così siamo diventati quelli che in questo momento non stanno a piangere nell'angoletto tutti i giorni cioè che sappiamo dove mettere le mani che sappiamo dire questo sì questo no questo funziona questo no proviamo questo soprattutto perché sappiamo metterci in gioco perché l'abbiamo imparato dall'inizio che sappiamo che quello che impariamo un giorno il giorno dopo ce lo dobbiamo rivedere che lo strumento ce lo andiamo a cercare perché quello che ci serve per fare quella cosa e che non pretendiamo di fare la scuola come il 1800 perché quella scuola non c'è mai piaciuta e quindi da una parte adesso apro una parentesi zitto zisto e speriamo che non ce lo dicono ma meno male meno male che è successa questa cosa perché finalmente possiamo dire eh ma io il voto sulla Vagella non lo metto meno male che abbiamo il modo di far vedere che si può fare scuola in un'altra maniera e in questa situazione è vero che ci riacchiappiamo i ragazzini io mi sto riacchiappando quelli persi quelli più creativi quella Laura l'ha vista l'avete vista anche voi la ragazzina sui libri che mi ha fatto la recensione una video recensione che non posso pubblicare ma è strepitosa del diario di Anna Frank perché io non gliel'ho fatto leggere perché ho detto non posso fargli leggere il diario di Anna Frank in questa situazione lei si è letto con la mamma in italiano e lei è spagnola e poi ha detto questo è il libro che parla di noi e smettiamo di lamentarci ha detto nel suo commento perché ci lamentiamo del fatto che non possiamo andare in bicicletta pensa ad Anna Frank e ha fatto una video recensione con la sua bambola Anna Frank che faceva muovere una cosa bellissima e questo ci serve che in che materia classifico come glielo metto il voto sul registro elettronico a Serena che mi ha fatto questa cosa non esiste non esiste più in questi contesti abbiamo tagliato i punti cioè abbiamo unito le discipline non c'è più l'attività di arte immagine no facciamo delle cose tutte interdisciplinari e si vede che funziona che il sapere funziona così ce ne ricorderemo dopo io comincio a essere pessimista ma insomma teniamo duro noi e vediamo che succede sì ma infatti guarda mentre ti sentivo parlare l'entusiasmo diciamo e i dati di fatto ci porterebbero a sperare a pensare che niente sarà più come prima questa è la nostra speranza dal punto di vista della didattica e del digitale io ho un forte dubbio che mi sento di condividere con voi e infatti volevo chiedere a Laura un consiglio come si tirano dentro i colleghi perché delle volte succede che poi sì è vero che adesso l'onda si sta allargando no quindi non siamo non sono più non siamo più in e in e che 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 erano appunto davanti al computer per ore ore di notte perché non riuscivano a dormire e non avevano altro di meglio da fare però rimane sempre il problema che al di là della del famoso digital divide che io ho sentito nominare in questo periodo più che del più che il coronavirus quasi il problema è che poi quando ti vai a confrontare con con alcune realtà e magari in particolare dal mio punto di vista la realtà della secondaria di secondo grado dove sì sì tu puoi dire qualsiasi cosa ma alla fine poi ho la vita di giacomo leopardi la devo sapere a tutti i costi perché poi quando arrivo in fondo devo fare l'elaborato e non dico nient'altro ma il problema c'è trasversalmente penso no come si fa a inserire perché voi siete esperte e di collaborazione siete esperte voi siete Paola e Laura le animatrici e le moderatrici di un gruppo ormai mega galattico definisco con un termine anni 80 70 che si chiama virgilio che insomma tutti conosciamo e che aiuta a navigare nelle acque di twinning i nuovi anche non nuovi insomma è un gruppo che ha un grandissimo successo ha tantissimi utenti e quindi insomma avete costruito avete costruito una una grosse esperienze in questo come si fa team cioè come si riesce a far capire ai colleghi che questo è bello e che non è un di più no è quello che si diceva prima non è un di più ma è un meglio come si fa ma allora io allora personalmente direi rispondendo così all'impronta alla domanda si tirano dentro i colleghi come si tirano dentro i genitori cioè attraverso i ragazzi e l'entusiasmo dei ragazzi tira dentro anche colleghi va detto questo è evidente perché per esempio io ora esempio banalissimo di ieri l'altro il questo incontro che abbiamo avuto il mito i ragazzi di paola e i ragazzi di una classe della mia scuola che però non è classe mia ho convinto la collega la collega lavora anche lei sulla lettura vieni facciamoli incontrare si scambiavano già lettere quindi le varie classi della mia scuola oltre a incontrarsi dal vivo con i partner un gruppo si scambiano lettere con la spagna un gruppo scambiano lettere con l'ungheria effettivamente ognuno ha il team il suo team e c'era anche paola insomma appena siamo stati lì i ragazzi hanno iniziato a dire chi è dante chi è angela dove sta lucas quindi immediatamente tutti iniziano a chiedere dov'è il mio e l'entusiasmo del mio è qualcosa cioè noi abbiamo passato c'erano 40 bambini io ve lo farei vedere com'è un mito con 40 bambini ma è stato divertentissimo e la collega ha detto subito si deve rifare era la prima volta che lei lo faceva cioè quando vedi il coinvolgimento siamo siamo tutti insegnanti tutti ci tengono tutti sanno che la motivazione il primo motore insomma dei ragazzi quindi l'entusiasmo dei ragazzi porta dietro per forza alcuni colleghi poi io sono anche animatrice digitale e più animatrice credo probabilmente perché sono un'animatrice insomma quindi le poveretta le grane toccano alla mia collega che è la funzione strumentale per le tecnologie e che è bravissima effettivamente io subito dissi non sono un tecnico però sono da noi si chiamano smanettoni sono una smanettona e mi piace moltissimo e mi porto dietro colleghi per provare quindi come si inizia si portano dietro i colleghi con facendo vedere è una qualcosa che funziona una strategia che funziona e guardate sono a ragione monica sono 15 anni che ci siamo dentro e 15 anni che sentiamo gente che dice nella mia scuola sono isolata e mi capisco meglio con il collega che sta dall'altra parte dell'europa che con il vicino della stanza è un problema e non sempre è il problema del del vicino distanza cioè bisogna cercare di trovare dei punti d'incontro con i nostri colleghi che francamente anche loro hanno tanto da insegnare a noi io magari posso insegnare qualcosa sulla sulla tecnologia o posso dare un consiglio perché qualcosa mi è già capitato per esempio sono espertissima di bug tutti i tipi di bug di twinning io l'ho visti prima o poi perché chiaramente a volte mi dicono ma capitano tutti a te beh per una questione di frequenza e ci sono dei numeri d'utilizzo insomma per cui li conosco però magari altri colleghi hanno altre hanno provato altri percorsi e io sempre dico ai miei colleghi riportate nei twinning quello che vi riesce bene fuori di twinning cioè il tuo cavallo di battaglia proviamo a portarlo dentro i twinning e ti viene la stessa cosa ma meglio perché in dimensione europea si arricchisce tanto e quello che diceva io cito Elena Pezzi che a sua volta non so cosa cita ma dice sempre insomma che se si mette insieme abbiamo una mela e siamo in due ci abbiamo mezza mela per uno ma se abbiamo un'idea per uno e siamo in due ci abbiamo due idee e da queste due idee chi sa quante ne nascono quindi magari senza essere come tutte le strategie didattiche non si possono imporre ai colleghi si propongono e quando loro vedono il risultato cioè io dico anche Monica citava la collega Loredana Becchi con cui abbiamo avuto la fortuna insomma di vincere il premio nazionale con un altro progetto eravamo ancora insieme ecco lei una volta visto la reazione dei suoi ragazzi in twin con quel di Monica e poi non l'ha più lasciato insomma in twinning perché lavorare con qualcuno che è lontano ma vero non ha prezzo e guardate ci sono delle cose per esempio io mi ricordo anche con Monica ai bambini una volta Monica ci ha mandato un video i primi tempi non c'erano ancora le videoconferenze proprio non offriva questo strumento e twinning ci mandava un video ci mandò un video per Natale si vedeva la sua città che è Zeged sotto Natale e i bambini italiani facevano no bambini vuol dire seconda media non bambini di seconda elementare bambini italiani facevano no ci sono i semafori in Ungheria anche lì quindi cioè è una cosa l'entusiasmo di vedere non so che ci somigliamo di vedere e quindi attraverso l'entusiasmo dei ragazzi si tirano dentro le famiglie e i colleghi e penso che questa sia la strada che sia la strada giusta e lavorare da soli non funziona mai o meglio dà la sua piccola soddisfazione però non ha la ricaduta che potrebbe avere è verissimo effettivamente poi quando i ragazzi portano a casa l'entusiasmo negli occhi e lo trasmettono ai loro genitori quella è la molla principale e io trovo a volte maggior difficoltà nel convincere i colleghi rispetto ai genitori perché per i genitori in realtà la richiedono questa scuola diversa i genitori anche soprattutto adesso per chi di noi ha tenuto i contatti con le famiglie a casa le domande che io anche ho ricevuto sono state ma perché non fare sempre così perché non fare questo tipo di cose perché forse ripeto forse soprattutto nella scuola con i grandi si ripetono degli schemi che sono un po sempre gli stessi e che poi vanno proprio a scontrarsi contro la scuola delle competenze e tutto il resto no prima si parlava si parlava con Luisella delle interrogazioni lei diceva ma io per me non esistono le interrogazioni nel senso tradizionale del termine ma esistono altri tipi di prove che poi è un po il problema che è emerso anche durante la didattica a distanza come li interrogo come li valuto come faccio i compiti in classe perché copiano e quindi è ovvio che loro quando parlano con noi stanno con gli occhi fissi sul bigliettino che hanno messo accanto alla webcam anche quella è una competenza perché io non sarei capace di fare io non sono mai stata capace di fare i bigliettini né tantomeno quelli micronizzati figuriamoci a leggere senza farmi beccare quindi insomma anche quella adesso a parte gli scherzi però effettivamente ecco il problema è che ci sono forse due marce diverse e sarebbe il caso che queste due marce un po si bilanciassero io volevo fare un'ultima domanda anche a Monica e volevo un po sapere sintetizzando lo so che le sintesi sono sempre un po banali ma per riuscire a capire anche a farci capire quali sono i due consigli che tu ti sentiresti di fare di dare scusami più che di fare a chi volesse cominciare ad avvicinarsi a questo mondo di cui voi avete raccontato così in modo appassionato intelligente coinvolgente due o più o anche una quali consigli quali quali tips forse non è proprio un tip ma ma fa bene provare bene provare perché dopo vengono le esperienze e poi non non si può perdere nulla solo solamente vincere vincere nuove esperienze nuove avventure anche anche amicizia e rapporti personali che che non potrebbe forse mai trovare in altro modo in un altro modo così io personalmente sono molto molto grata anche per i progetti europei perché veramente da 15 anni il mio mondo anche da insegnata è cambiato moltissimo è diventato molto più ricco che prima veramente quando quando ho iniziato 15 anni fa allora il mio desiderio più grande non era che trovare un insegnante italiano che aiuta a poter cambiare delle lettere tradizionali tra i miei alunni e tra i suoi alunni ho iniziato così e ho ricevuto un regalo molto più grande che non aspettavo veramente non potevo nemmeno immaginare parlo parlo di laura perché è la mia twin ma veramente veramente era così che oggi sembra un po buffa questa cosa ma 15 anni fa quando ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a lavorare sui twinning insieme per la prima volta e laura è la mia amica la prima amica con chi ho conosciuto chi ho conosciuto prima su internet non di persona abbiamo parlato al telefono io me ne ricordo la prima volta quando ho viaggiato in italia allora io pensavo veramente ora sembra buffo ma pensavo ma ci sarà davvero ho sentito la sua voce ho visto le sue lettere ma io viaggio tramite tramite più paesi ma ci sarà la fermata dell'autobus veramente come come la conosco perché non abbiamo cambiato nemmeno una foto veramente abbiamo iniziato così e poi la fiducia c'era si vede già molto anche all'inizio anche le nostre scuole sono hanno questo gemellaggio abbiamo lavorato insieme anche con in più progetti europei progetto come ne us anche abbiamo avuto insieme anche i miei colleghi conoscono laura conoscono la sua scuola scuola e i nostri progetti anche la preside mi chiede anche in questo periodo ma come stanno è veramente anche i miei colleghi così e il progetto il progetto è una scuola nella scuola direi veramente non non c'è non c'è niente da perdere è una cosa da provare per per quanto riguarda i mezzi tecnologici io scelgo sempre mezzi molto semplici perché non scelgo il mezzo scelgo l'obiettivo perché usare se mi serve uso se non mi serve non scelgo allora cerco un'altra un'altra cosa come come andare avanti con i bambini ma anche laura anche paola avevano ragione hanno ragione che i bambini anche in questo periodo possono costruire cose meravigliose che spesso sono anche anche sorprese perché non aspettiamo perché sono così creativi che possono anche fare una sorpresa inaspettata ma un regalo vero una forse forse una cosa quando chiesto ai miei bambini se ci fosse una fata che tipo che ti potrebbe permettere ad andare in un certo punto dappertutto nel mondo dove piacerebbe andare la risposta dei miei bambini era nella nostra classe veramente non sognano di andare al mare non sognano di andare in un altro posto ma tornare alla normalità e scrivono sempre vorrei rivedere la mia amica il mio amico italiano questo è un regalo che veramente ci ci dà il nostro progetto è che non non posso immaginare un regalo più grande di questa cosa da insegnante grazie davvero grazie guardate grazie per aver condiviso con noi e con i nostri amici che ci ascoltano queste vostre esperienze è stato molto bello interessante molto toccante davvero di nuovo grazie di essere state qui io nel ringraziare voi naturalmente ringrazio anche chi ci ha accompagnato da stamattina c'è Sara Pagliai, Luisella Mori, Marina Marino, Simone Bionda naturalmente grazie a voi Paolo Orduini, Laura Maffei e Monica Kiss ringrazio tantissimo Daniela Cecchi che ha il nostro referente per il nostro referente istituzionale usr e il gruppo degli ambasciatori toscani insomma tutti quanti noi lavoriamo come un gruppo all'organizzazione di questi nostri eventi spero che vorrete essere con noi magari non presto vi lasciamo in pace ma insomma magari in futuro grazie davvero del vostro tempo e buona serata e un caro saluto grazie mille grazie a voi ciao a presto ciao grazie mille ciao ciao grazie a voi